Ciao amici, sono in partenza per la seconda giornata della mostra del cinema. Oggi ci sarà Pedro Almodovar, Scarlett Johansson, Adam Driver, Liv Tyler, Laura Dern e Brad Pitt. Eh sì, oggi è proprio la giornata di Brad Pitt, per cui seguitemi e vi terrò aggiornati direttamente da Lido di Venezia. A fra poco, ciao! Ciao amici, sono Lido, a parte il caldo assurdo che fa oggi. Oggi proverò a farvi entrare nella sala conferenze stampa e vi farò vedere un po' di conferenze stampa degli attori che ci saranno oggi, tra cui ricordatevi Brad Pitt. A fra poco, ciao! È appena passata Laura Dern, Adam Driver, Scarlett Johansson, ma adesso vedete un po' i simpaticoni come si sono comportati. Bello, ciao! Ciao amici. Laura! 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 Cioè, sono letties che non sono la vita reale. E' che qui non avrà! ald solidarie e darà! formati a sacram Playerи nalㅠㅠ Proviamo a andargli a beccare nella sala conferenza stampa. Questa è la piccolissima fila, piccolissima, per entrare alla conferenza stampa di Scarlett Johansson. Non ho mai visto una cosa del genere in tutti questi anni di Mostro del Cinema. Praticamente è impossibile entrare. Non ci resta che vederci un po' di conferenza stampa dalle tv che sono uguali alle mie spalle. Se vi faccio vedere. Laura! 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 laura No, no, no. No, no, no. No, no.